Vieni Maria, vieni. Finalmente siamo arrivati, eh? No, dico... Guarda! No, dico Gianni, guarda! Nessuno, nessuno, una forzineria desolatamente vuole. Ma Maria, ma non essere sempre così pessimista, adesso ho controllo, eh? Eh, c'è qualcuno qui? Senti, guarda, piuttosto, prova a suonare il campanello, vediamo se arriva qua. Sì, signor, come diceva, a buonanime e totò, parte noveo e parte napoletano. Insomma, tutte bondicette. Santa pace, guarda, te sei doveva beccare un napoletano. Senta, mi scusi, lei come si chiama? Eh, Gennaro. Eh, signor Gennaro, potrebbe controllare gentilmente le nostre prenotazioni? Abbiamo già pagato... Fate là e mi raccomando, questa sera, quando servi la cena, non ti avvicinare troppo ai clienti. E perché? Eh, perché, Carmè, perché sennò si è svuotata la pensione. Non vedo l'ora di tornare tra le mule del nostro convento, così fresche. Eh sì, si sta proprio bene lassù. E poi ci sono tutti quegli orfanelli che ci aspettano. Uè, ma avete visto che grande persona che ho, professore, eh? E chi lo direbbe che siamo nati proprio nello stesso quartiere, oi? Gennarino! Oh, mamma santa, Carmè, mi sei fermato ancora. E noi, mamma è la prima volta che ci si vede. Ma che vuol dire? Quando una persona merita fiducia, io lo sento a nasa, a nasa. Gennarino! Oì! Gennarino, allora, senta a me. E buca l'uola sanno fu, e gli occhi sanno rindo fu. E te calmando, core mamma. Vi sarei dimenticato che quattro anni fa sono stato qui presso la vostra pensione per quindici giorni. E ho conosciuto proprio tutta la famiglia. Piuttosto. Pupetta, come? E fatemi vedere un po'. Come siete rincita? Cioè, no, che se pare proprio San Gennaro, prima era umirata. Ma permettete che vi ripresenti mia moglie Pupetta, ma io la chiamo Bambulella, perché a verità com'è bella. Pare proprio una Bambulella, eh? Queste sono alcune scene della commedia che stiamo preparando. e vi aspettiamo numerosi al Teatro Politeama Pratese, mercoledì, 24 gennaio alle ore 21. Loro sono parte degli attori, maresciallo ordinario Piscopo Sabrina, maresciallo ordinario Maria Cagnazzi, luogotenente Mario Calandrelli, maresciallo ordinario Anna Bonanno, maresciallo ordinario Matano Alessio, maresciallo capo quasi aiutante Valentina Marricchio e maresciallo ordinario Nicola Corofaro. Io sono, vabbè, luogotenente di Scadetta Claudio e vi aspettiamo numerosi al Teatro Politeama. Ciao, vi aspettiamo! Ciao! Ciao!